Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale ed attivare la campagna e di lasciare un like se questo video vi è stato utilissimo oggi ragazzi nella nuova modalità cioè nel senso che faccio sempre video più aggiornati ogni anno e quindi in questo nuovo video vi spiego come disabilitare completamente al 100% Windows Defender Firewall lo disattiviamo completamente quindi ovviamente andiamo un attimo sulla barra della ricerca e cerchiamo Windows Defender Firewall ci cliccate sopra riuscirà questa pagina andate su impostazioni avanzate su azione proprietà su stato firewall attivato mettete disattivato e fate applica la stessa cosa anche su profilo privato profilo pubblico e basta e fate tutte e tre applica chiudete questa scheda andiamo un attimo sull'attiva disattiva Windows Defender Firewall e qui facciamo direttamente disattiva Windows Defender Firewall disattiva Windows Defender Firewall dice scelta non consigliata perché la protezione serve per il sistema operativo io ovviamente faccio abilita perché mi serve voi disattivatelo e mi raccomando riattivatelo subito perché vi serve la protezione sul sistema operativo quindi ragazzi spero tanto di esservi stato d'aiuto su come disattivare alla perfezione Windows Defender Firewall e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao